Franco Di Mare, giornalista professionista dal 1983, inviato di guerra, conduttore di un programma molto interessante, profigua per tutti i cittadini italiani, Uno Mattino. Io voglio partire proprio dall'inviato di guerra, sei stato in Iraq, in Africa, in America Latina, ma soprattutto sui Balcani. Nel 1991-92, adesso non ricordo bene la data, hai scritto il primo libro, Il cecchino e la bambina. Successivamente hai scritto un altro bellissimo libro, Non chiedemi perché. Voglio intanto partire da questi due libri. Perché quei due libri? Perché quando ero stato in Bosnia ero rimasto colpito da mille storie e non tutte queste storie riuscivano a trovare spazio nei resoconti che io facevo per il telegiornale, per cui molte di queste storie che però meritavano di essere raccontate, sono riuscito poi a raccontarle in quei libri. Diciamo che, mi posso permettere, con l'amico Franco sono circa dieci anni che ci incrociamo e ci rincorriamo. Ci siamo incontrati a Brindisi, al Teatro Verde, in occasione del testimonial per l'AIL, poi sei stato anche a Doria. Hai scritto tanti libri, non li voglio citare tutti. L'ultimo che ti trovi qui nel grande Salento, a Galatone, quindi farai tutto un tour, compreso Latiano, Francavilla e quant'altro. Perché quest'altro libro? Perché io ho fatto una rubrica che ha avuto un grande successo, mio malgrado, che si chiamava Saro Franco negli ultimi cinque anni, uno mattina, e molti mi hanno chiesto ma perché non raccogli i testi, almeno i testi più importanti, in un libro? Perché è uno strumento di consultazione, anche per gli insegnanti, per dare temi in classe, per avviare dibattiti in classe, perché sono tanti sassolini nello stagno che smuovono le acque e ridanno vita a un dibattito che spesso, intorno ai grandi temi di attualità e di cronaca, che spesso è un po' mortaccino. E quindi l'idea era quella di provare a dare uno scossone, a far riflettere un po'. Cosa bolle in pentola, nella mente, nella testa del grande amico e scrittore Franco? Di mare, dici, beh, non lo so, io spero di poter continuare a fare il mio lavoro ancora a lungo e farlo bene, riuscire a farlo bene. Tu sai bene, Crocifisso, che il giornalista vuole morire sul campo mentre lavora e non vuole mai andare in pensione, ma non perché è attaccato ai soldi, perché poi alla fine chi va in pensione va in pensione e prende la pensione e basta, anche il giornalista che continua a lavorare dopo la pensione fa quello. E' semplicemente perché il rapporto con i lettori, i telespettatori, è un rapporto così carnale, anche se è distante, che si fa fatica a farne a meno. Lunga vita, lunga vita. Anche a te, amico, grazie. Flavio Filone, sindaco di Galatone, grande evento culturale nel vostro cartellone che avevate già in programma. Stasera c'è qui Franco Di Mare. Qual è la vostra esperienza di questa venuta, di questo grande scrittore e giornalista? Sì, un momento importante per la nostra comunità. Oggi si conclude la nuova edizione del Salento Book Festival, che ha abbracciato sei comunità del Salento, Aradeo, Corigliano, Nardoga, Lipoli, Galatina e Galatone, nei mesi estivi. Oggi concludiamo questo percorso con l'ultimo lavoro di questo grande giornalista, vice direttore di DG1, persona importante come Franco Di Mare. Questa è un'iniziativa che è partita tanto tempo fa, sono nove anni di Salento Book Festival, noi abbiamo aderito da due anni e oggi a Galatone viviamo questo momento, che parte anche con questo evento, le iniziative del Natale a Galatone, promosse dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione delle Parrocchie del Territorio. Buon lavoro per i prossimi eventi culturali. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.